ciao sono qui per l'aggiornamento sulla cherella della multa del cazzo questa mattina sono andato le poste a ritirare una raccomandata con ricevuta di ritorno che aprendola ho visto la risposta che il prefetto da al mio primo ricorso riferito alla prima multa che vado a leggere stavolta con gli occhiali per allora protocollo numero 373 barra 2017 visto il verbale di contestazione e accertamento della violazione redato dalla polizia municipale di ravenna in data 602 2017 relativa alla violazione di cui l'articolo 725 del codice penale è redatto a carico del signor montelli francesco nato ravenna il 1503 del 1954 e il mio residente mio pc numero 4 p 3 1 6 titolare del locale denominato la davida per avervi esposto nella vetrina alla pubblica vista oggetti che offendevano la pubblica decenza nello specifico riproduzione dell'organo sessuale maschile eretto e statuetti riproducenti coppie di in atteggiamenti amorosi copurativi visto il ricorso in cui il signor montelli francesco eccepisse che due punti non ha commesso alcune infrazioni in quanto non ritiene di aver offeso la pubblica decenza poiché le opere realizzate sono espressione d'arte e in quanto tali non in grado di offendere la sensibilità dei cittadini punto e virgola non si sarebbe integrata la violazione dell'articolo 725 del codice penale poiché la semplice esposizione di oggetti trasgressivi non è sufficiente essendo necessario che tale azione si accompagni a comportamenti idoni ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato punto e virgola viste le contro deduzioni formulate dall'organo accertatore ritenuto che non possono condividersi le eccezioni sollevate dal ricorrente poiché gli oggetti d'arte seppur liberi nelle loro forme vanno comunque esposti in luoghi tali da consentire l'accesso solo a coloro che coscientemente intendono farlo e che la pubblica esposizione in una vetrina mette in condizione chiunque di prenderne visione indipendentemente dalla volontà di farlo come succede nelle pubblicità di autostrade facsimile più o meno lì nessuno si scandalizza per la pubblica decenza urtata un'opera d'arte di per sé un'opera d'arte non è di per sé in quanto tale inidonia a offendere interessi giuridici tutelati dall'ordinamento punto virgola la corte costituzionale infine chiarisce in una sentenza risalente ma che afferma un principio mai smentito che un'opera d'arte non è slegata da vincoli e restrizioni e che la libertà di pensiero non giustifica l'assoluta arbitrarietà dell'arte che incontra i suoi limiti nel rispetto diritti altrui e quindi nella tutela dei minori che non hanno la necessaria maturità per comprendere il significato di alcune immagini e noi continuiamo a non darglielo questo significato si preferisce questo gli oggetti rappresentati tenuto conto delle modalità di esposizione hanno leso il bene giuridico tutelato nella norma punto considerata pertanto che sussiste la violazione amministrativa sussiste in italia non è vero che non sussiste niente questa cosa sussiste considerato che nella fattispecie la sanzione pecuniaria prevista nella misura di euro 103 ad euro 619 per la violazione di cui all'articolo 725 del codice penale a forma di pene debba essere fissata ad euro 206,00 pari al doppio del minimo visto l'articolo 725 codice penale vista la legge 689 bar 81 ordina e ingiunge al signor montelli francesco moa sopra generalizzato di pagare quale sanzione per l'infrazione di cui sopra la somma complessiva di euro 211,32 comprensiva di euro 5,32 centesimi hanno un'esattezza confortante 32 centesimi per spese di notifica nel termine di 30 giorni della notifica del presente provvedimento sotto pena degli atti esecutivi presso un qualsiasi concessionario addetto alla discussione dei tributi banca o agenzia postale all'interno territorio nazionale tramite modello effettente che si allega come facsimile ad avvenuto pagamento una copia del modello eccetera poi alla fine mi dice contro la presente ordinanza in giunzione può essere proposta opposizione davanti al giudice di pace territorialmente competente entro 30 giorni della notifica del presente provvedimento da questo giudice di pace io ci andrò questo è sicuro ma prima di entrare nei particolari non so neanche se ci entriamo volevo fare un altro tipo di riflessione dopo la risposta di di del perfetto dalla prefettura al primo verbale ho notato una cosa la data la data di quando è stato emesso questo verdetto è del 28 novembre la data la data di avvio per la seconda muta è del 30 novembre due giorni dopo io ho saputo di questo verbale il 5 di dicembre perché ero assente euro barcellona e di questa diciamo risposta al primo ricorso l'ho saputo stamattina il 12 dicembre loro però i vigili lo sapevano erano già pronti perché mi domando perché non sono venuti due giorni prima prima di avere perché loro penso di avere in mano la sentenza che mi costringa a pagare allora io qui mi trovo a un bivio nella mia vita mi trovo un bivio nella mia vita perché pagare la multa no se io la vedessi anche solo come una campagna pubblicitaria su loro che sto facendo sarei di molto in vantaggio economicamente sempre una campagna costata veramente molto poco con il massimo della resa per cui se la vedessi in quell'ottica lì pagherei e basta ma siccome la mia testimonianza artistica non è una testimonianza artistica perché vuole essere commerciale e basta il commerciale è importante ma non è la base non è il top il top di questa mia espressione artistica è una comunicazione che viene data che viene creata che viene raccontata ed è la ragione per cui io mi ritrovo in questo bivio a fare una scelta cosciente consapevole di quello che può comportare anche nella sua complicatezza perché mi rendo conto di essere un piccolo david no di fronte al potere egolia che mi viene a dire tu non puoi fare quello che vuoi tu non puoi dire quello che è bello per te tu non puoi raccontare le cose per come ti vengono dal tuo cuore ma li devi raccontare secondo i permessi che noi ti diamo di farlo e qui e qui e qui mi si chiama una lotta si chiama una lotta e io ho creduto sperato fino a questo momento da quando è venuto fuori il risponso del perfetto che la cosa si mantenesse a livello comunque giocoso tipo dai abbiamo capito che abbiamo fatto un errore no perché il classico cittadino anonimo che segnala ripetutamente che evidentemente ha influenza su cui decide chi deve essere multato o meno ha mosso la macchina sono lenta della cosa e sono venuti a farmi una multa ma il guaio è che per loro e per me ma però per me non lo considero un guaio perché c'è una strada che devo passare la passerò sarà forse il prezzo giusto da pagare per la notorietà che si è creata grazie al cazzo sul lavoro che faccio io che nessuno vede ancora sono tutti fermi al cazzo no e voi con queste multe del cazzo non fate altro che tenerli lì no a non capirlo lì ma non capirlo a guardarlo in maniera guardinga come se ognuno di noi fosse un piccolo poliziotto di mafics che se vede qualcosa che non va bene segnala subito l'autorità e non ti accorgi quella cosa che tu vedi no che è una cosa che tu vedi il segnale di vita che ti dà è un segnale che tu stai aspettando da sempre nella tua vita e invece di abbracciarlo invece di accoglierlo come vuole il buon senso della natura che è prodotto del creatore lo delimiti lo contorni lo imprigioni e di impedirsi di darti tutta l'energia tutta la gioia tutto il potere di comprendere di crescere di cui hai bisogno nella vita e che non trovi mai seguendo le carottine del successo che ci vengono sbandierate davanti agli occhi per il quale diamo il sangue pur di raggiungere e quando ne raggiungi ti accorgi che era carta pesta dietro non c'era niente perché è tutto dentro di noi e io artista del cazzo vengo a comunicare questa cosa qui io uso il cazzo come la chiave per entrare dentro di me e vivermi la mia vita sessualità compresa perché non posso scinderle se le separo io muoio quando la sensualità il desiderio del essere soddisfatto del bello cessa nella mia vita rimane un corpo morto e allora io voglio essere libero perché la natura mi ha creato libero nell'esplorare e scoprire la meraviglia del racconto di dio che ha le sue leggi perfette incontestabili e al quale se aderisci non puoi pentirte mai nella tua vita e io nella mia piccola vita sto facendo questo il progetto della davida io l'ho messo nelle mani io tanti anni fa coscientemente quando mi sono reso conto di cosa stava succedendo mi sono detto dio questo progetto è nelle tue mani perché a me schiacerebbe tenermi il peso sulle spalle e sulla mia psiche sulla mia cultura che è niente io sono un seminalfabeta culturalmente riconosciuto dalla società e va bene e va bene ma sono rimasto vergine in quel selvaggio che ha risuonato liberamente con quelle cose delle belle sia di immagini che di esperienze e alla fine a questo momento la mia vita è una vita di successo io sono una persona che ha raggiunto il successo quello vero che non mi viene portato via da nessuno perché è dentro di me ed è pieno di forza e di protezione per cui e qui chiudo il video ok la motore del cazzo è così c'è la volontà di farmi del male perché mi sembra che devo finire c'è la volontà di farmi del male a questo punto come ci sono resi conto che io mi sono resi conto che loro non la mucchiano così no vogliono fare una figura di merda la vogliono fare te ne sono di no ma la stanno già facendo ma la faranno io glielo ho detto nel primo ricorso rischiate di darmi la patente di artista no ma la state dando e io la prendo a questo punto l'artista si oppone alle cose insulse anche se te le propone il potere soprattutto se le propone il potere poi quando sono così proprio a voi non mi farei un cazzo del peneretto voi volete qualcuno che stia giù con la testa io non ci sto giù con la testa oppure posso anche starci giù con la testa ma è col cuore che io non sto giù e siccome in casa mia comando il mio cuore sono cazzi magari i miei amari ma sono cazzi io li combatto fino alla fine non passerete quindi non avrete il mio sì non lo avrete il mio sì perché non lo meritate voi non meritate la mia stima perché quello che mi rispondete non è umano non è voi non io vi ho fatto un ricorso con una comunicazione umana voi mi avete risposto in maniera disumana con la burocrazia che vi scorre nelle vene questa è la cosa tossica dell'umanità di cui voi non vi rendete conto e vi augurate di avere il sopravvento su chi vi può salvare perché il lavoro che sto facendo salverà anche voi che ora mi venite a punire dicendo mi fai del male no io ti vengo veramente a vaccinare contro la cosa che ti fa soffrire anche a te prefetto che hai una vita sicuramente non soddisfacente se non avresti risposto così non avresti risposto così non c'entra le cose che sai e quanto sai applicare bene la legge umanamente tu sei assente ingiustificato e non è più ammissibile essere assenti ingiustificati in questo momento storico gli assenti ingiustificati non sono ammessi e io questo reato non lo compio io sono presente e faccio quello che posso e poi sono casti del mio dio con casti suoi all right